Per andare fino alla fermata puoi usare questa, sai. È un po' vecchia ma fila via bene. Grazie. Mi ha chiamato il preside e mi ha detto che non c'eri. Se c'era tuo padre ti avrebbe giato due sberle. Fallo tu, visto che lui non può. Satia. Adesso non usa questo, hanno lo stesso odore. Le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme. Michele! Dani, ma è vero che sei arrivato in barca? Sì. Com'era il mare? Faceva paura. Ma se l'hai anche fatto? È bello qua tutto verde. Quando lui cassa tutto bianco, vedrai. Dove vai? Devo partire. Lei deve venire con me. Devo farti vedere una cosa. Dico. L'argomento. Dico. Grazie a tutti.